Eccoci, eccoci dalla bussola di Focette, abbiamo ripreso il nostro appuntamento, questo e solo questo è il pubblico più caloroso d'Italia. Ci sono altri amici, permettetemi di salutare un grande campione del fucilato, Sandro Mazzinghi, che è con noi. Dov'è il mitico Sandro? Eccolo là! E un altro grande amico invece da questa parte, accanto al dottor Paolo Cardini, c'è Gianni Minà! Grazie, protagonista di una grande serata in onore di Sergio Bernardini ieri sera, che seguirete poi su...